salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio della PIXXX che cosa non ho capito? la PIXXX con 2G ah 2GX ok se GG è vero xxxx non ci sono noi single quando parlo esatto no ma è giusto è giusto perché non devi far capire magari loro non sono decisi sull'episodio che è quindi alla fine se lo vediamo poi oggi stiamo con Ulisse quindi già c'è casino ah beh vero scusate non vi ho presentato Ulisse disiscrivetevi dal suo canale ecco 300 like sul nostro e 10 sul suo va bene mi metto nell'angolo bullizzato io ho piuttosto c'è questa cosa in mano che voi avete aperto io non opero ancora quindi devo aprirla io no perché c'è le cose in mano c'è ancora questa qua la new year però prima ho le vote crate oppure le belle level perché sono allora sinceramente lui si è detto ho un culo e io mi apro la file quella nuova e io vado ad aprire le vote la file questa qua il centro quella nuova dove stavo seduto io praticamente se si possono trovare pokemon leggendari di fuoco dai dai butta prima di tutto messaggio promozionale quelle che gliel'ho fatta io ai singer quindi ho farmato lui no no perfetto così via la san valentino che la fai è quindi solo quelle due perché non è vero non sono tue vabbè io vado chi fa se cura vai aspetta opla dai 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 ok in giacca di come io punto tutto sull'essere io qualche po' non me da l'altare vaffa io tolto l'altare level adesso va dai vediamo un po' che trovo magmortar ah no ho recinzato il giro delle eh non è male eh sì sì ci metti di meno era ora da dici ultra ball aspetta you want a markmortar disguise dai io so pieno di stone eh sì perché ho trovato il disguise anche perché sono anche quelli che poi trasformai in pokemon il disguise wow ho trovato quindi non ho trovato markmortar mi trasformo io ho trovato il pixel mongrass ma che cagata buono ok l'ultima dove era il miard dove l'avevo ma l'hanno tolta ah lo so qua ah è io me apro la valentine che ci si può trovare lo schifo voglio i leggendari voglio i leggendari stanno i leggendari i suoi figli leggendari 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 che cagli trovi che il deo il cavalluto ma è diverso che schifo come è diverso che hanno fatto è diverso come si apre guarda ti è più veloce adesso pure ho trovato una merda ho trovato l'articuno bundle e che culo qual è l'articuno bundle è tipo la la l'orb che culo quell'altra non mettiamo a casa non mi chiede la merda ah come a no lo metto a casa se non me lo fregate voi con le ore no lo possiamo usare tutti no l'orba ce l'hai solo tu ah no all'orba si trova potranno un pokemon egg eh ma ce l'hai già piena l'orba te lo puoi andò subito a prendere no si l'abbiamo preso l'altra volta gozato regà se non guardo i nostri video perché è cattivo ho trovato nella valentine con la chiave mia c'è un corus bello che trovate che trovate si ma 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 questa è guarda c'ha pure il buco del culo dietro ho già aperto da qui ma che cavolo ti facciamo stare a dire bellissimo ma è gherna tal dire io aprovo la valentine cave e vedo che mesce eh vai 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 tanto apra a level no a level la vuote vediamo che devo trovare dentro puoi trovare ci mette su ma io o si fermata solo si fermata solo ah puoi trovare gherna è uscito un po che non mi ricordo come si chiama dimmi i scemini me lo faccio vedere è scemini ah pure abbiamo uscito sto po che non fa quello con il buco del culo ho già aperto a me non mi piace per niente è carino ma non mi ricordo ma che è leggendario si me lo ve lo spiace boh mi sembra che no dovrebbe essere quello la tipo non lo so si lo davano con l'evento mamma mia ma che oggi sto trovando schifo io volevo trovare il cerbiatto con le corna x cerbiatto eh eh c'era una cerballo anche il cornetto appena fatto comprate che lei ha finito ad aprire no comprate cerbiatto andiamo ad aprire il mio il mio frozen shrine no mi fa schifo al cavolo e noi ci andiamo l'andiamo ad aprire insieme aspettiamo un attimo che si ingassa e sbriga a fare chiavi che c'è una tante vabbè vabbè chi c'è di chiavi allora allora signorise venga un po qua guarda che te regalo ah uh l'amo buono l'amo schifo abbiamo tre io c'è una di tre ti arrivo ammi per tutti ammi per tutti amo ammi tutti perché vedi perché oggi è giusto sono valentino quando c'è questo video poi quindi ci sono gli ami visto che sei un bravo youtuber e no come ulisse regalo le poche ball che trovo lanciando la cazzo di cane le love ball le appena sei appena rotta lanciarle normali scusa lanciarle così si si è proprio rotta mumbole per tutti va bene andate tutto andate a casa sapete sto cazzo articuno esatto andiamo 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 ok signor ulisse posizioni lo shrine di qua non lo metto al contrario vabbè no è piccolo troppo tardi ma tu che cazzo di problemi c'è poi le ho appiccicate articuno non è che stanno troppo bello te la sei portata la master ball sì no non ce l'ho da master ball bene che lascia volca volca merda volca non mi sa che povero se l'avete una master ball no non funziona take down cavolo lo sai quella è la cosa divertente questo titolo già lo prevedo e ulisse perde un leggendario no oppure oppure articuno morto o vivo non so se me la prende l'articuno di ulisse non so se c'è l'inventario o me la prende no non te la prende non ti posso dire la roba ho le ultra ball magari ho culo vabbè dai prova ma sta con uno di vita già usci no sì magari facci sua se faccio i drop on fa mi sa che lo sciotto no 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 ma ghiaccio solo se c'è un mostro fuoco ma aspetta ma poi scappa se perdo vero non lo so non lo so penso proprio di sì è sempre stordito benissimo adesso ulisse però potrei aspettare due secondi è tutto rischioso voi avate voi che vabbè volisse venite se t'arriva sta gs ball aspetta ha perso hai perso oddio è carino no vabbè da tratti quello non mi faceva schifo zap dove si perde bello metti salvataggio ricarica ricarica ci voglio crede e vabbè ci avevo pensato e vabbè vabbè questi funzionano comunque no si funziona però dimmi fa eh si si ce l'hai l'orb no l'orb si fa uccidendo 400 pokemon dello stesso tipo no non è vero si quando gioco io no no è esopertivo quindi dobbiamo vabbè magical basta più che altro oggi che poi che abbiamo vediamo facile perché tipo c'è sta quella di ralz chi però non sapevo non so di stromare e anche non è quante notte oddio oddio signor morduk la quattro una cacchiata perché si bisogna prende caterpie e ti vado l'abilità una ma sta qua dietro che ci vetti a piallo le catture manetta di notte o di giorno sta una caterpie di giorno si e ralz invece qua di notte si ralz e allora aspettiamo il giorno io ho dato di notte e mi metto a farmare ralz ok allora mi serve un altro pokemon ok allora ci fermiamo un attimo e aspettiamo il giorno esattamente ok signori miei è giorno e intanto loro stanno lì alle birci io invece vi faccio caterpie che è più facile vabbè se parla a birci devi andare no no caterpie sta nella foresta è birch forest no foresta no foresta normale ah giusto sì c'è ragione comunque aspetta ralz come se via si arriva con abbiamo detto abilità figa abilità come si fa la vita e natura e queta eh a cagare metapod ecco ce n'è uno qua di livello 18 piccolo piccolo oh è asti questo ragazzi non va bene se ne è quieta serve c'è qualcosa che non va si è bloccato su attenti e vai prima o poi funzionerà ciao prima o poi benissimo ok ragazzi rieccomi praticamente mi si è buggato tutto il metapod che ho trovato era shiny io non lo possiamo più prendere no infatti se vede là bellissimo vede a poto shiny ma io lo voglio io qui in partito ne facciamo prendendo la roba qua anche se non esce niente vacca boia vabbè continuo a riprendere faccate voglio caterpi fa un male cane vabbè ricordatevi di pulivi l'inventario che se finite la poca ante vi riempite di merda non vi dà la chiave io so sempre vuoto mica mi chiamo eh ma a me la gente che sta qua ammazza poco con me lascia la roba a terra non voglio sopprire ma buttala tutta da un lato quindi vi riempire l'inventario mortug sei un buffo infatti sto andando a suonare veramente era bello tutto bello shiny ma non è come è shiny comunque l'ho trovato è rosso mi serve quiet rosso te lo giuro tutto rosso aspetta quiet e l'abilità qual era era l'abilità mi sa che era sempre la stessa era una way era il trace l'altra abilità mi serve ehm niente qua non escono pokemon mi sa che adesso è tardi che fa uscire ralzo e telepathy come abilità e quiet mi sa che adesso a questo metapod si metapod esce anche di giorno esce diceva di giorno oppure è giorno sì sì pido ancora sì l'erba mia ma sto a trovate tutto tranne che caterpie forse vi state sbagliando dell'orario secondo me no 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 è giusto è giusto è giusto è giusto aspetta mincino caterpie caterpie allora il bioma e forest down and dusk anche caterpie down and dusk si esatto di aspettare quindi all'alba al tramonto uguale di aspettare all'alba il tramonto down and dusk va a cagare un altario è sì oh corri corri c'è stanno shiny dove vieni dietro alla casa del tizio che ci abbiamo di fronte casa proprio di riga dietro la casa di fronte di quello che ci abbiamo da sti cosi prendilo prendilo corri arrivo ma quella che c'è la casa col cuoricino davanti si la casa di fronte casa nostra con un cuoricione dove sta però cuoricione dietro dietro proprio dietro preciso dietro dietro arrivo piango per prendere eccoci tai lo shiny trovo niente falso finale non lo ammazziamo falso finale secondo te l'ammazzo con un falso finale oh un razzo che cammina prendilo 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 e vabbè abbiamo tutto no e si dipende quello si è preso mio la vita fa schifo dai stupido cater pi esci ma non c'è l'erbetto non dire peggio come chi lo dice chi lo dice qui l'ha già provato il giro è peggio ma fatto uscita dall'erba ah 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 buon salve buon salve che è peggio se ghi ti devi fa un passetto e poi ti fermi ecco qua metà metà poterito vedo non trovo niente sto fermo perché fai un passetto e poi ti fermi guardando dritto vedrai passetto widdle ancora ok ho catturato un altro metapod ok c'è l'abilità non lo so la mia vita era caterpi metapod non avrei mai sentito non avrei è un razzo io li sta a catturare istantanei con le netball io li portavo una di vita e poi faccio la ultraball cattore io li faccio prescindere ultraball tu fai schifo che i net fai prima manco li devi abbassare eh no caterpi 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 no 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 non diventare il giorno rimani con il giorno no 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 ok ho trovato un rouse maschio con trace che non va bene era grosso fatta e trace e poi che altro c'ha di cosa è serio ragazzi no caterpi hai trovato un caterpi due shiny shiny no no è brutto è brutto sono gli trovati che cavolo è una cosa vai cattura me sto caterpi pillar guarda qua c'è qualcosa di strano ah no no è l'ombra di una casa qualcuno ha fatto la casa gigante sopra e faceva l'ombra e pensavo che stava sfonta qualcosa lasci perdere il giorno allora venga con me signor morduk andiamo prima di finire questa puntata che è alquanto disastrosa visto che abbiamo trovato nei caterpi e nei ralzo ma non è che il mio ralzo l'ho trovato stai zitto facciamo l'envio facciamo l'invio dove fari allora dicevo facciamo fare uova così ma dove non c'è poco forti l'armu ammazzo io ciao no a che livello bisogna essere questo è 140 dentro casa nostra io si sbriga te non c'hai pokemon arrivo io arrivo io arrivo non ha fermato fermato non ci morisco non ti per mettere ma se non si ti manca prendi la cosa la mega pietra quando state eccola qui avanti si ha preso botte qui per gira le 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 che pagone eccolo si versione y y criticalite con psycho cazzo i singer c'è di che fanno caccare quel pokemon giapponese che mamma via cosa hai fatto no finale cosa è un danno qualsiasi eh le singole in modo di veloce un bolo pulsar velo pop un po' velo l'hai ammazzato ucciso si vio che preso vio la mutu la mutu no ite la cacchio si bella albino una cosa bella l'ho tratto davvero un leggendario quindi la mutu ite vabbè l'importante è un leggendario quello era raro un leggendario era un leggendario rare boss anche meglio la mutu ite ragazzi attenzione stiamo in una collezione delle mega pietre ce l'abbiamo quasi tutte però non c'abbiamo i pokemon esatto non è vero alcuni ce l'ho sì qualcuno ci stanno e la mettigli la pietra no perché sprecarla su un pokemon di merda la puoi sempre toglierla esatto la devi solo mettere dentro di te insomma non lo so però dentro di te vissi io non faccio il lavoro tuo ovvero il narcotrafficante il narcotrafficante madonna non so chi si mette tipo la droga nel corpo vabbè non lo so non penso per finire questa bellissima puntata si metterai della droga nel corpo no faremo l'inviro mentre signor mordug per fare i pokemon questo qua ho un caterp quiet ti serve no metapod prendi prendi tutto no no si chiama metapod ho un metapod quirti dato faccia che ho dato un sacco di mincino ma non mincino niente dai uscite ormai non è l'altro no 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 perché l'altra esce di giorno esce solo di notte non posso cercarlo però di giorno secondo c'è che te sto sponatuto no no ci dice tutto ci dice tutto che povero provo niente mi sta costruendo ah qui loro vanno in quello che i fiori eh sì perché so perfetto allora io intanto ci metto i metapod miei sono bug di merda eh sì oh ora già sono trovato uno maschio uno femmina o c'è ragazzi o c'è ora andate andate va bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata abbastanza complessa abbiamo fatto diverse avverture Ulisse ha perso il leggendario perché è una pippa non è vero abbiamo abbiamo preso un Mewtwo master ball come si chiama la Mewtwoite per farlo mega evolvere ho preso la medicina dei Mewtwo eh perché te l'ho detto io sto stavo se non manco te ne accorgi appunto 300 like condividete il video 400 lasciate hashtag pixamonjix sia sotto il video nostro che sotto quello di Ulisse perché è giusto che sia così e ci vediamo la prossima puntata ciao ciao